Sono giorni che non penso ad altro, che non ho più spazio per me, sono tua, sono tua, sono appena nata. Questo è il momento in cui effettivamente le canzoni prendono vita, i testi assumono un significato tutto speciale, perché lo vediamo negli occhi delle persone. E' il luogo dove ha sede una parte della nostra crew, ovvero la nostra etichetta discografica, che è la Woodworm, ma anche perché io sono toscana, quindi sono molto felice di aver fatto la prima data di questo tour qua. La prima volta che li suonavamo dal vivo, tutti quanti, tutto questo disco nuovo, e poi era veramente dal 2019, da settembre, che non facevamo un concerto e quindi l'adrenalina era tantissima e siamo troppo felici.